Ma che la faccio? Che pezzo faccio? Ehm... pezzo... Guarda, facciamone uno in playback Playback Ecco Playback Allora io vuoi fare di back Sì, tu vuoi fare di back e io faccio playback Eh, va bene Massimo Baldi Beh, eh, playback, eh Regia! Annuncialo il pezzo C'avete lì un playback? Sì Sparatelo giù dai, uno playback qualsiasi Frega niente, basta che sia un playback Massimo Baldi in playback Settiamo adesso, vediamo cos'è Bravo! Scatolette, 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 scatolette Con la mancanza d'ignoranza puoi cantar così Ma è solo un gioco di pazienza che mi ha insegnato ieri questo qui In un momento come questo è meglio dire di sì La patria chiama, ma ti ascolta, siamo in due Io e questo qui Così stasera, scatolette, scatolette, così stasera scatolette, tanto per mangiare Dimenticando le promesse di una donna che era questo qui Che era questo qui Che era questo qui, che era questo qui Catolette, scatolette, 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 scatolette Vederti insieme a questo qui, così stasera scatolette per incominciare Una canzone che non serve per cantare Neanche insieme a te, così stasera scatolette, tanto per mangiare Dimenticando le promesse di una donna che era questo qui, così stasera scatolette, tanto per mangiare Una canzone che non serve per cantare Neanche insieme a te, così stasera scatolette, tanto per mangiare Scatolette, 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 guarda cosa ti ho portato Ciao Massimo, come stai? Come va? Noi siamo amici di Vecchia Data, ci siamo ritrovati qui a Popcorn Hai visto come sono adibito? Ti vedo, praticamente elegante Praticamente elegante Per il nostro pubblico di Popcorn che stasera Massimo Boldi si è veramente buttato sull'eleganza Ho sparato lì, scatolette, ciac, 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 ciac Siete divertiti? Eh? No, dico veramente? Come no? No, ho fatto sì, sì o sì? No, 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 ecco bene Tutta l'Italia praticamente in questo momento sono andando in giro urlando scatolette, eh? Ma, non direi Sì, sì, ma lo sento io, sì, anche in giro per i tram, nelle strade, scatolette da tutte le parti Bello, in giro per i tram non lo avevamo detto, è molto bello Quando si vengono in giro si tirano giù i finestrini, eh? Una cosa così C'è Angelo, ciao Hai ripreso a salutare, c'è Angelo che ci dice di salutare, di stringere queste scatolette Che poppaio che è stringere Stringere e molare Stringere e molare Continuare Allora, la prova di finale l'abbiamo fatta prima, perciò è inutile, cioè è come se avessimo già finito No, esco di qua Sulla 5 Sulla 5 Un grande donore della sua vita Senti, un appuntamento a domani Ciao, lette A domani con Popcorn Ciao, ciao, a domani